L'eleganza internazionale oggi è italiana. C'è aria di Parigi nel nostro negozio. Acquista un abito da noi e ti ritrovi sugli Champs-Élysées. Da oggi, acquistando da noi un abito marzotto, puoi vincere un meraviglioso viaggio a Parigi per due persone. Il nostro negozio ti orienta nella scelta dell'abito giusto e con Marzotto ti regala splendidi viaggi. Se ami l'eleganza internazionale e ti piace viaggiare, vieni da Fuso d'Oro, Piazza Concordia 13, Mantua.